Maurizio Iorio torna a Silvi l'Italia Beach Soccer dal 29 giugno al 3 luglio, un altro importante appuntamento dopo il successo dell'anno scorso. Per fortuna torno perché sono stato così bene, ho incontrato delle persone meravigliose, un'organizzazione fantastica, è un paese bellissimo. Sono molto fiero e contento di aver potuto insieme alla stessa organizzazione, all'amministrazione comunale, ricreare un nuovo evento. Quest'anno, a differenza dell'anno scorso, è ancora più prestigioso perché è un primo campionato a sei squadre, sei nazioni che verranno da tutte le parti del mondo a livello mondiale. Ci stiamo lavorando da parecchi mesi per cui questa conferenza stampa che va a suggellare tutto l'impegno che abbiamo preso mi riempie veramente di grande soddisfazione e grande gioia. Macchina organizzativa, già al lavoro, avete scelto nuovamente Silvi perché evidentemente lo scorso anno avete avuto quel ritorno che vi aspettavate. Silvi l'anno scorso è stata a dir poco straordinaria e non è falsa retorica, veramente è stato un evento che è entrato nel cuore, mi auguro anche per la cittadina di Silvi e per la sua gente. Per me, la mia organizzazione e tutte le nazionali che fanno capo alla mia società, Silvi Marina è ormai tappa d'obbligo, tutti quanti le nazionali chiedono di venire a giocare qua. Già dallo scorso anno, l'ultima serata, prima di salutarci con Maurizio Iorio, eravamo rimasti d'accordo che questa esperienza sarebbe stata ripetuta e anche ampliata. Siamo stati di parola perché non solo la ripetiamo ma quest'anno sarà allargato a sei nazioni e ci saranno circa due giorni in più.